Grazie a tutti. I diritti umani sono innanzitutto non persone che studiano i diritti umani ma che effettivamente si attivano per i diritti umani. Io sono qua per rispetto alla famiglia Polenghi e a Isa Polenghi. Perché lei è un attivista dei diritti umani. Perché quando hanno ucciso il suo fratello Fabio in sangue e freddo, lei è andata subito a Bangkok e ha fatto richieste di avere delle risposte. Questo è quello che significa occuparsi di diritti umani. Quando tu senti che il sangue che è per terra è il tuo, questo è il momento in cui tu cominci a occuparti di diritti umani. Anche se io rappresento le camicie rosse, il sangue che è per terra non ha nessun colore. Ma il governo della Thailandia deve spiegare molte cose. E continuano a non spiegare. E continuano a non spiegare. Dicono bugie. Dicono bugie a Isa. E dicono bugie a tutto il mondo. E in questo si uniscono a molti altri governi che siccome stanno al governo credono che possono dire quello che vogliono al mondo. Io vedo le fotografie di Fabio qui. E questo era chiaramente un uomo che capiva il potere della gente. E questo era chiaramente un uomo che capiva il potere della gente. Era sicuramente un uomo che capiva che siamo tutti umani e abbiamo tutto diritto ad avere una dignità. È troppo facile credere ai governi con i loro milioni di dollari che possono investire in pubblica relazione e in marketing e credere a quello che loro dicono. Before I went to Thailand, representing the red shirt, I was asked to go at the request of the former Prime Minister Taxin who had been overthrown in a coup. And Prime Minister Taxin in the West has a reputation as being corrupt and the Thai government had said all of these 100,000 red shirts had been paid to sit on the street for weeks at a time. Il governo thailandese riteneva che il primo ministro Taxin avesse pagato tutte le camicie rosse per stare in strada e manifestare. So I went and I asked hundreds of these people on the street who had been sleeping rough for weeks why they were there. Allora sono andata personalmente e ho chiesto a queste persone che dormivano sulle strade da tantissimo tempo esattamente perché erano lì. And they said that they were there because Taxin had given them health care. E loro mi hanno detto che erano lì perché Taxin li aveva dato un sistema sanitario. 50 million Thais got health care under Taxin. 50 millioni di persone thailandese hanno avuto un sistema sanitario sotto Taxin. So when the government overthrew him in 2006 e quindi quando il governo lo ha deposto nel 2006 it was the military that actually overthrew him. Erano i militari che effettivamente l'hanno fatto andare via. And it is the military that is still in control today. E sono i militari che sono ancora in controllo oggi in Thailandia. Esattamente come i militari avevano il controllo in Chile e Brasile durante gli anni Sessanta e Settanta esattamente e così anche oggi in Thailandia. E tristemente devo dire anche con l'assistenza e il sostegno del governo americano. And I want to say to you that if there is a lesson that we can learn from the strength of Isa Palenghi in fighting for the truth for her brother it is that we must never accept the presumption of regularity. A government that sets up in their own capital live fire zones where they will murder their own civilians is not a government in the sense of the term that we understand. Un governo che nelle proprie città fa delle zone denominate live fire zones dove uccidono i loro propri cittadini che entrano in questa zona a sangue e freddo non è quello che noi possiamo chiamare un governo. da parte delle camicie rosse noi nell'ultimo anno ci siamo impegnati in un'investigazione nostra e noi abbiamo scoperto un'interno del corpo militare. Abbiamo testimoni all'interno che ci hanno raccontato che ci sono stati dati ordini verbali che non ci doveva essere nessuna macchina fotografica nelle zone in cui stavano uccidendo le camicie rosse o comunque sparando sulle camicie rosse. e quindi noi prendiamo la posizione che la morte di Fabio non è stata assolutamente un incidente. e quindi noi prendiamo la posizione che il governo thailandese ha ordinato la morte di Fabio come ha ordinato la morte di altri giornalisti. perché quando noi diciamo che hanno ucciso i giornalisti o assassinato i giornalisti come hanno assinato anche operatori della sanità tipo quelli che guidavano le ambulanze e vedi scorrendo e l'accusa più forte è la fotografia di Fabio quando è caduto per terra. è stato ripreso anche da un video you see him shot lo vedi sparato he falls to the ground cade a terra a man comes e subito arriva un uomo looking like he's with the army che sembra che sia un militare he doesn't check his pulse non li guarda sia ancora a polso he doesn't try to give him any assistance non cerca di dargli nessuna assistenza he grabs his camera e li prende la macchina fotografica questo è veramente un crimine e è un crimine che il governo italiano non ha fatto niente per richiedere informazioni o chiarimenti su quello che è successo a Fabio no matter how incompetent or corrupt the Italian government may be no matter how corrupt or incompetent the Italian government may be this is a child of Milan questo è un ragazzo di Milano doing the work that he was born to do to bring truth to his own people as well as to all of us che faceva il lavoro che era nato a fare per portare le verità che lui vedeva in giro per il mondo e portarlo alla sua gente he was not a red shirt non era una camicia rossa or a yellow shirt e neanche una camicia gialla he was a son of Italy era un figlio dell'Italia and this is not how Italy should treat its sons e questo non è come l'Italia dovrebbe trattare i suoi figli I can say this because my father was born in Fiume posso dire questo perché mio padre era nato a Fiume noi dobbiamo chiedere che il governo le possa venire un centesimo del coraggio che ha avuto Isa Polenghi e far richieste di risposte e vi chiedo tutti voi che siete qua oggi di scrivere lettere a tutti i membri del governo che conoscete e chiedendo come mai la morte di Fabio è andato senza nessun tipo di risposto o chiarimento da parte loro e perché la famiglia Polenghi debba a sua spese personale grandissimo portare avanti una causa che il governo italiano dovrebbe fare per legge richiedendo informazione e chiedendo giustizia so I will end my chat with you this evening by telling you what an honor it is to be in the presence of Isa Polenghi voglio finire stasera dicendovi che onore è per me essere nella presenza di Isa Polenghi che è un'advocata 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 che è un' and keep you.